Le commissioni saranno formalmente insediate martedì prossimo. I partiti hanno pressoché deciso i componenti, così come sembra ormai in discesa la strada che porterà all'individuazione dei presidenti, passaggio dall'indubbio valore geopolitico. Con il PD Attilio Solinas destinato alla guida della Commissione Sanità, gli altri nomi sono tutti ugubini. Andrea Smacchi, PD anche lui, sembra destinato alla presidenza della Commissione Bilancio, mentre per Giuseppe Biancarelli della lista Umbria più uguale sembrano aprirsi le porte della guida della Commissione Sviluppo Economico. Completa il quadro per l'opposizione la presidenza del Comitato per il monitoraggio e la vigilanza destinata al forzista Nevi. Leggo anche io i giornali e non posso che prenderne atto. Al di là delle battute, come vedete, la nostra lista è stata determinante per la vittoria elettorale del centrosinistra. Probabilmente senza la nostra lista forse avrebbe prevalso il centrodestra. Noi non abbiamo fatto nessuna, come avete visto, nessuna questione di potere. Non c'è nessuno riconducibile alla nostra lista a partire dal sottoscritto. Credo che non mi sarebbero mancati i numeri per poter esercitare un ruolo all'interno dell'esecutivo regionale, ma su questo sono molto tranquillo. Abbiamo fatto nessuna questione di potere. L'assegnazione di una presidenza, forse la presidenza più importante, sarebbe un atto doveroso e non di miopia politica come spesso avviene perché c'è stato un risultato elettorale molto faticoso da parte del centrosinistra con sfilacciamento nella società Umbra dove la metà dei cittadini non sono andati a votare o hanno espresso un voto nullo o bianco. Dobbiamo raccogliere questo segnale. Pensiamo di interpretare, portare un messaggio di una parte importante a società Umbra dentro le istituzioni. Quindi il riconoscimento, non i ruoli esecutivi di potere come può essere aggiunta, ma i ruoli di funzionamento del Consiglio regionale in una commissione forse la più importante di tutte, sviluppo economico, agricoltura, turismo e molte altre questioni, ambiente, possa essere un giusto apprezzamento anche del peso di una forza politica destinata a crescere perché c'è bisogno di Umbria più uguale, ma direi di Italia più uguale, di Europa più uguale e il dibattito di questi giorni anche ai più alti livelli ce lo testimoni.